però non riuscivo a trovare un posto di lavoro in Italia e come sempre accade uno dice ok me ne vado in America vado a cercare l'America sogno americano sì io dicevo eh ti farò vedere io un giorno vi manderò tutti a quel paese dall'America hai fatto tantissime cose per arrivare a dove sei oggi però vorrei proprio seguire un filo logico che è raccontare chiaramente dagli albori dagli inizi fino appunto a dove sei arrivato quindi credici se ci racconti un po' di come tutto è iniziato di come sei arrivato a New York di come ti sei innamorato di questa città allora la prima volta a New York sono arrivato nel 2009 io facevo un dottorato all'Orientale l'Istituto Orientale di Napoli ero venuto qua per tre mesi per scrivere un saggio su uno scrittore americano di origine dominicana si chiama Gimordiazza premio Pulitzer del 2008 in realtà sono sempre stato innamorato di New York perché sai la metropoli ti dà quella sensazione di libertà che io che venivo dalla provincia non provavo perché questa secondo me è la grande qualità di New York che nel suo caos nelle sue dissonanze tu trovi la tua dimensione e la tua libertà vedi sono stato tre mesi per me tornare in Italia tre mesi fantastici sono uscito tutte le notti solo una notte non sono uscito ed è l'unica che mi ricordo è quella in cui sono stato a casa però sai ti travolgeva io vivevo in quei tre mesi a Wunersburg quindi era molto giovanile molto hippie, molto vibrante poi sono tornato in Italia ho finito il dottorato non sapevo cosa fare perché non avevo offerte di lavoro la classica fase nella vita in cui sei un po' lì che ti guardi in tua cosa faccia io avevo lavorato in Venezuela come giornalista, professionista per diversi anni quindi avevo già una nella comunicazione già avevo fatto tanto però non riuscivo a trovare un posto di lavoro in Italia e come sempre accade uno dice ok me ne vado in America vado a cercare l'America sogno americano sì io dicevo ti farò vedere io un giorno vi mandavo tutti a quel paese dall'America ti faccio vedere io cosa sarò in America quelle cose un po' da spaccone che uno dice e quindi sono venuto poi a New York ho iniziato a fare uno stage poi mi ha assunto un'azienda per lavorare nel marketing turistico poi ho aperto la pagina Facebook avevi già la passione per il turismo o ti è venuto proprio lavorando per questa azienda? ma la passione per il turismo nel senso che io sono un viaggiatore quindi amo viaggiare amo conoscere i posti però non mi avevo mai scontrato diciamo con l'industria del turismo che è un'industria che secondo me è semplice nel senso che non è che ti devi inventare nulla mi gusta del turismo penso sia una delle più semplici che ci sia tra l'altro ho visto ho letto a qualche parte per se non l'ho sentito e vista ora mi sfugge hai iniziato proprio come il classico la classica persona quella all'aeroporto col cartellone che accoglieva i turisti poi cos'è che ti ha spinto a fare proprio quel passo da dire ok divento imprenditore faccio un qualcosa di mio divento padrone di me stesso in qualche modo allora io lavoravo nel marketing per questo l'ambito del turismo poi come tu immagini a New York cerchi sempre di fare soldi con tanti altri lavori quindi quando mi proposero di andare a prendere la gente con di sera perché gli aerei arrivavano mi disse ok ci vado qualche volta ti pagavano bene la però mi resi conto delle enormi potenzialità del turismo perché il turista che arrivava non sapeva nulla non capiva nulla del posto in cui andavo cioè noi pensiamo che usare tipo Google Maps è una cosa facilissima ma non è scontato che la gente non lo usa che gente che ti dice come si usa Google Maps perché magari stava sempre nella loro città e non l'ha mai usato come faccio a fare una rete mi avevo reso conto che veramente la gente che veniva a New York e New York è quasi sempre il primo viaggio fuori dai confini europei non sapeva nulla quindi hanno bisogno di assistenza sì che fanno tutte le solite tre cose che magari non faresti se conoscessi qualcuno del posto magari quando conosce qualcuno del posto fai cose che non sono turisti e sono anche magari più belle più interessanti e sì pensa che il primo tour che ho organizzato quando non avevo ancora la pagina il mio viaggio a New York l'ho organizzato per tutti i turisti futuro dei rufo delle terrazze panorali che tra l'altro è ancora attivo ho visto è ancora sì sì è ancora attivo e io dissi caspita questi vengono a New York stanno sempre a Times Square tutti i giorni non si muovono facendo questo tour magari gli fa vedere qualcosa di diverso qualcosa anche di autentico dove incontrare i new yorkesi che è un popolo molto aperto da parlare bisogna farlo anche noi a questa tour mi suda si ok tieni sembra non ci si nests esti esti se tu esti